Il titolo di questo corso è lenti asferiche. Tra i diversi elementi che bisogna prendere in considerazione per identificare la lente oftalmica idonea di fronte ad una determinata problematica visiva c'è ovviamente anche la geometria della lente. Nel modulo intitolato le lenti oftalmiche abbiamo sottolineato l'importanza dei materiali e dei trattamenti. Qui prenderemo in considerazione la geometria e cercheremo di capire come essa sia indispensabile dal punto di vista ottico geometrico per garantire un buon risultato visivo e funzionale degli occhiali oltre che ed estetico. Per quanto riguarda la geometria la più grande classificazione delle lenti oftalmiche è quella che le distingue in lenti sferiche e asferiche. Vedremo in quali casi è utile prescrivere la lente asferica e soprattutto quando la lente asferica garantisce un miglioramento del risultato funzionale ed estetico dell'occhiale, in particolar modo se realizzata secondo una centratura corretta che tenga conto dei parametri del soggetto.